Musica Prepariamo un congoglio Che parta dall'inizio appunto della via Abbiamo due mezze di sostituzione Il mezzo ha composto da me, Gregorio Va verso destra E il mezzo di Gabriele va verso sinistra Il mezzo di B va verso sinistra Vabbè, partiamo, prepariamo il congoglio Andrea dovrebbe essere già partito Sì, sarà già partito Il riportato sarà sicuramente già partito Prepariamo il congoglio e partiamo Proviamoci dai Gabriele, scendo dal carcello di casa vostra Andrei verso mare per illustrare la costa No, Gabriele abbiamo detto verso casa di Bipiele Poi giri e torni Se si stiamo a urlare facciamo a cambio Cioè vieni ad aiutare Vengo nel posto da me Nel Gregorio andiamo procedendo fino a mare Daremo un po' di tempo per il controllo delle pastelle Che potrebbe essere andato E in caso vediamo se possiamo andare alla fine E alla fine di ogni pastella Sì In caso ci sia assoluto Ok, allora passiamo Andiamo Vai, prepariamo il congoglio Vai, guarda, guarda Viene della tenda poi Andiamo, andiamo, andiamo Mettro di destruttare Mettro di destra, mettro di destra Salendo Mettro di destra Mettro di destra E domanile Sto facendo per controllare le masserenze. 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 0 No, 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 no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.